Loango, loango, sono in centro a Loango, i monumenti qui sono come un cane, la cappella, le candele, il cimitero, sempre nella piazza principale, sabbiosa, le tribune, la croce, il campo da calcio. Dal 1886, il pozzo, la scuola di Loango, il monastero, in mezzo al nulla, la Madonna del monastero, il passeggio del monastero di Loango, l'interno della chiesa, la chiesa dall'esterno, la zona del silenzio. Saluto anche il monastero di Santa Maria di Loango, Congo selvaggio per me oggi, in mezzo al nulla, Loango, la foresta del Congo. Saluto la scuola di Loango, neanche un filo di alia. Dopo due ore di attesa ci rinuncio, vado a piedi verso la strada principale. La strada incontro questo monumento. La natura è incontaminata. Ci sarà pure un motivo se vanno tutti a piedi. La strada è di terra rossa, Congo selvaggio. La strada è di terra rossa, Congo selvaggio.